L'appuntamento è di quelli da non perdere, ci sono tante stelle pronte a incantare la platea con le loro giocate, con i loro numeri a effetto e noi speriamo ovviamente che possa essere una partita di quelle che piacciono a noi e a voi appassionati, ricca di emozioni, magari di gol, le premesse ci sono davvero tutte e se non volete perdermi nemmeno un istante rimanete con noi su EA Sports. Gara che promette spettacolo, non cambiate canale. Si fanno sentire i tifosi, c'è anche la partita, atmosfera che si sta riscaldando, ancora un attimo di pazienza e si parte. Un saluto a tutti da parte di Piero Gipardo, con me, come sempre c'è l'Elia Dani. Appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della Serie A Team, match che promette di regalare emozioni fino alla fine. Milan protagonista di una bella prestazione all'esordio, sono arrivati i primi tre punti, una vittoria che lascia ben sperare per il futuro. E' fondamentale però rimanere con i piedi per terra e scendere in campo con lo stesso spirito visto nella prima partita. Vinicius. Ecco l'undici di partenza del Milan. Sané. E' fondamentale. E' fondamentale. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.